Anticipazioni Endless Love di sabato 7 settembre. Zeynep, tornando a casa, trova Emir avvolto nelle ombre, il suo volto un enigma di emozioni non dette. Senza preamboli, Emir la incalza, la sua voce un tuono silenzioso nella penombra, domandando con un tono severo dove si sia recata. Prima che possa spiegare, Zeynep interrompe la tensione, rivelando che la piccola è inquieta. Con Premura la vediamo salire le scale, le sue mani rassicuranti, mentre addormenta la bambina nel suo lettino. Una volta rientrata al piano di sotto, Zeynep si trova di fronte all'ira di Emir. Gli confessa di aver dovuto visitare sua madre, spinta dalle circostanze urgenti. Kemal è tornato in libertà quel giorno. «Se non fossi andata, avrebbero sospettato di me!» L'ira di Emir scoppia come un fulmine. Si avvicina a Zeynep con passo minaccioso, il timbro della sua voce carico di furia, mentre la accusa di aver esposto sua figlia al pericolo. La tensione si trasforma in paura quando la afferra, la sua presa a un chiaro presagio di tempesta. «Non avresti mai dovuto permettere», sbotta con rabbia, «che mia figlia fosse sotto lo stesso tetto di Kemal». All'improvviso, il silenzio viene spezzato dal trillo insistente di un telefono. Emir risponde, e dall'altra parte della linea, Nian che si inghiozza ma Emir non perde tempo. «Hai preso una decisione?» Nian, visibilmente scossa, tra le lacrime sussurra che non c'è tempo, la bambina sta per svegliarsi. Come un presagio, il pianto di Denise squarcia la tranquillità attraverso la ricetrasmittente. In un lampo di comando, Nian ordina ad Emir di correre nella stanza di Denise e di obbedire alle sue istruzioni, poiché solo così la piccola tornerà a dormire. Segue una scena di un'intensità straziante. Emir con delicatezza accarezza e coccola la bambina, toccandole le manine per placare il suo pianto. Ma appena il compito è compiuto, il volto di Emir si indurisce nuovamente. Con fermezza, rivela a Nian che il giorno seguente non ci sarà più tempo per la tenerezza. «Domani è il giorno della decisione, sarà il nostro ultimo giorno di tregua». Le sue parole cadono come sentenze, preannunciando un domani carico di inevitabili confronti. Mentre Emir si allontana dalla casa, Zeynep lo osserva dalla finestra, i suoi occhi colmi di pensieri e timori per il futuro. La tensione sale mentre Nian, con il cuore stretto dall'angoscia, scrive freneticamente ad Hakan, cercando disperatamente aggiornamenti sul caso di Denise. Hakan, attraverso brevi messaggi, le trasmette una speranza cauta, assicurandole che sono sulla pista giusta. Ogni parola scambiata è un piccolo faro di luce nell'oscurità che avvolge Nian. La scena cambia portandoci a casa di Kemal. Kemal, accompagnato da Asu, rientra in una casa troppo grande e silenziosa per un uomo solo. Asu, con una delicatezza che nasconde una profonda ferita emotiva, lo interroga sui suoi desideri. Kemal si avvicina e confessa che, dopo un anno di solitudine, il desiderio di avere qualcuno al suo fianco è diventato insopprimibile. Asu, i suoi occhi illuminati da un misto di amore e speranza, gli prende la mano e gli sussurra che la sua unica ragione di vita è stare accanto a lui. Le sue parole sono un sussurro di passione e mancanza e Kemal risponde semplicemente «Lo so». La loro vicinanza cresce, i loro volti a pochi centimetri l'uno dall'altro, in un momento che sembra sospeso nel tempo. L'intensità del loro quasi bacio è evidente, carica di tutto il non detto che ha circondato il loro rapporto. Infine, con un gesto che suggella la loro riconciliazione, Kemal prende la mano di Asu e la conduce nella camera da letto. Lasciando che il silenzio parli per loro. La scena si sposta nella camera da letto, dove Kemal e Asu giacciono sul letto, vicini ma separati da un abisso di emozioni. Nel momento di intimità, Kemal vede non il viso di Asu, ma quello di Nian. Le parole gli sfuggono involontarie. «Anche tu mi sei mancata!» Ma quando la realtà si impone e il volto di Asu riemerge dalle ombre della sua mente, Kemal si ritrae, scosso e confuso. Il tormento si dipinge sul suo viso mentre ammette di non essere pronto, di essere ancora intrappolato nel passato. Asu, con un'intuizione nata dal dolore, capisce che l'ombra di Nian è ancora troppo presente. Le parole di Kemal si fanno eco di una promessa. «Ci vorrà tempo per guarire, per trovare il momento giusto per loro!» Asu si alza per andare via, ma Kemal la trattiene, chiedendo solo la semplicità del conforto di dormire insieme. Nel silenzio che precede il sonno, Asu esprime il desiderio di curare le ferite di Kemal, ma lui risponde con una rivelazione dolorosa. «Non ho più ferite! Sono diventato una ferita che sanguina!» Il giorno seguente Nian incontra il detective Hakan, ansiosa di ricevere aggiornamenti su Denise. Ma le speranze vengono schiacciate quando Hakan, con riluttanza, le spiega che procedere legalmente potrebbe essere controproducente. Le parole del detective lasciano Nian devastata, facendole sospettare che anche lui sia stato corrotto da Emir. La disperazione di Nian esplode in un urlo di frustrazione mentre si rifugia nella sua auto. La scena si conclude con una rivelazione amara. Hakan riceve una chiamata da Emir, confermando che è stato manipolato e costretto a mentire. La mattina svela nuovi intrighi mentre Kemal e Asu si svegliano dal loro sonno. Mentre Kemal è temporaneamente assente dalla stanza, Asu inciampa in un messaggio sul suo telefono. Nian, con parole cariche di urgenza, chiede a Kemal un incontro per parlare. Asu, il cuore stretto dalla gelosia, osserva la richiesta con sospetto. Intanto, nella solitudine della sua auto, Nian attende con ansia una risposta, pronta a mettersi in viaggio verso un destino incerto. Asu, incapace di trattenere il suo malessere, affronta Kemal non appena rientra. Le sue parole sono un misto di lamentela e accusa. Nian sembra emergere sempre con nuove scuse. Ma Kemal, con la fermezza di chi ha decisioni irrisolte che pendono sul suo capo, le spiega che tra lui e Nian c'è una questione ancora aperta, una ferita non ancora guarita che richiede attenzione immediata. Nel frattempo, mentre Nian guida, un'altra chiamata interrompe il silenzio. È Emir. Lui le chiede se ha preso una decisione, ma Nian, con la mente e il cuore altrove, risponde tagliando corto. Non è il momento di parlare. La scena si sposta poi a casa di Kemal. Nian varca la soglia. I loro sguardi si incrociano, densi di tutto ciò che è stato e di ciò che potrebbe essere. Senza indugi, Kemal le offre qualcosa da bere, ma Nian, diretta e decisa, accetta la sua offerta precedente, pronta a fare qualsiasi cosa pur di avvicinarsi a una risoluzione. Kemal, sorpreso e forse un po' scosso, le si avvicina sfidandola. Sei davvero disposta a fare qualsiasi cosa? E poi, sottolineando la gravità della situazione, aggiunge, Sei in una posizione così difficile, tanto da accettare qualsiasi cosa. Kemal, con un gesto delicato, ma carico di significato, rimuove la matita tra i capelli di Nian, accarezzandole dolcemente la chioma. Lei, colpita dall'intimità del momento, chiude gli occhi, sembrando abbandonarsi a quell'attimo di vicinanza. Lui si avvicina ulteriormente, quasi per annusare il profumo dei suoi capelli, un gesto che parla di un desiderio forse ancora non sopito. Ma all'improvviso la tensione cambia direzione. Kemal si ritrae bruscamente, la sua espressione si indurisce, e le parole che seguono sono taglienti come lame. «Non voglio aiutarti», dichiara con freddezza. «Ai miei occhi, non hai nulla di così prezioso da offrirmi. Se cerchi giustizia, otterrai giustizia», prosegue, guardandola con uno sguardo che sfiora il disprezzo. Le sue parole sono un'accusa, un interrogatorio sulle scelte di vita di Nian. Chi sei tu? Una che ha sempre scelto solo per il proprio vantaggio. Una donna che ha avuto un figlio con un altro uomo. Il colpo di grazia arriva quando Kemal, afferrando nuovamente la matita, la spezza in due davanti agli occhi di Nian. Lei, sconvolta, chiude gli occhi, un gesto di resa di fronte all'inesorabilità delle parole di Kemal. Guarda verso il pavimento, il cuore pesante, mentre Kemal chiama Asu, che prontamente si pone al suo fianco. Nel salotto di casa sua, Kemal, con un tono di voce che non ammette replica, rivela a Nian una notizia sconvolgente. Sai che io e Asu stiamo per sposarci, vero? Non bussare più alla mia porta. Perché Asu non vuole essere disturbata. Con queste parole definitive, spinge Nian fuori dalla sua vita. Vediamo Nian uscire dalla porta, mentre Kemal rimane a guardare dalla finestra, il suo sguardo fisso su un orizzonte lontano. Una Nian, con il cuore infranto, si perde nelle strade della città, riflettendo sul suo amore perduto. Ma quasi guidata dal destino, si ritrova improvvisamente davanti alla residenza di Emir. Emir, affacciato alla finestra, capisce subito il segnale. Nian è tornata a lui. Si incontrano nel giardino, dove Emir si siede accanto a lei sui gradini della scalinata, e, in un gesto di amore rinnovato, la bacia dolcemente. La nostra storia ha vinto su tutto, le sussurra, sigillando il loro ricongiungimento con promesse di un futuro insieme. La scena si sposta drammaticamente a Kemal, solo nel suo garage, dove l'atmosfera cambia radicalmente. Improvvisamente, una pistola fa la sua comparsa nelle mani di Ayan, che si rivela in un contesto inaspettato. Hai pensato a quello che ci siamo detti qualche giorno fa? chiede. Nel frattempo, Nian trova Denise e la stringe tra le braccia. Con tenerezza infinita, le promette che presto lasceranno quel luogo di dolore e incertezza. Nel cuore di un garage buio, l'aria è carica di tensione, mentre Kemal affronta Ayan. Kemal, con fermezza, ribadisce la sua decisione di non rivelare mai l'indirizzo della moglie del suo carceriere, nonostante le pressioni. Ayan, con un tono che oscilla tra la comprensione e la minaccia, replica che apprezza l'anticipazione, ma insiste sulla necessità di imparare ad ascoltare prima di agire. Kemal, circondato da strumenti di lavoro che giacciono sparsi su un banco, sfida Ayan chiedendogli se intende usare quegli attrezzi per fare del male a persone innocenti. Con uno sguardo che cerca di scrutare le vere intenzioni di Ayan, gli chiede se l'intento è quello di intimidirlo. Ayan, riflettendo su una conoscenza nata tra le mura di una prigione, risponde che, sebbene non possano essere considerati amici, c'è comunque un rispetto di base dovuto alle parole date. Tuttavia, la conversazione prende una piega inaspettata quando Kemal interrompe, dichiarando di aver anche egli dato la sua parola a una donna, promettendo di proteggerla dall'uomo che la maltrattava, suo marito. Una promessa fatta a una donna non può essere infranta, afferma con convinzione. Ayan, con un tono sprezzante, insiste sul completare il suo lavoro seguendo le proprie procedure, ribadendo che anche questa è una promessa che intende mantenere. Kemal replica con forza, sottolineando che non può revocare la punizione che ha imposto a quell'uomo e suggerisce ad Ayan di considerare di rompere anche lui la promessa fatta al suo mandante. Kemal, sprezzante, si allontana, lasciando Ayan da solo nel garage. Ayan, seppur riluttante, lo lascia andare, dimostrando che il rispetto per le parole date può ancora avere un peso. Ayan, riflettendo sulla conversazione con Kemal, si rivolge ai suoi uomini in un momento di introspezione. Kemal ha ragione, ammette con una rara onestà. Dobbiamo guardare prima a noi stessi e capire dove stiamo sbagliando. La decisione è presa. Indagheranno a fondo su Kemal, scoprendo i dettagli della sua vita, le sue frequentazioni e le ragioni del suo disaccordo con il mondo. Nel frattempo, Kemal, sentendo il peso dell'urgenza, contatta Zeir. È il momento di entrare in azione, gli dice con una voce carica di preoccupazione. Interroga Zeir su dove sia stato e su ciò che ha fatto, sottolineando la necessità di agire rapidamente. La donna si sveglierà a breve e dobbiamo avere tutto pronto. Altrove, Nian trova conforto nel tenero abbraccio con sua figlia. Denise. Mentre la coccola, le parole dure di Kemal riecheggiano nella sua mente, facendole versare lacrime di frustrazione e dolore. In un momento di profonda emozione materna, fa una promessa alla bambina. Non piangerò più per tuo padre. Emir fa una mossa audace contattando Asu per un incontro urgente. Nonostante la sua iniziale riluttanza sostenendo di avere altri impegni, Asu cede sotto la pressione di Emir che insiste sulla priorità della loro discussione, arrivando persino a minacciarla sottilmente. «Non ci sono cose più importanti di questa», afferma con fermezza, convincendola a incontrarsi in azienda tra un'ora. Emir enfatizza l'importanza dell'incontro, aggiungendo che ci saranno documenti da controllare riguardanti Kemal e le ricorda di portare una penna, sottolineando che ora tocca a lei fermare il suo fidanzato. Dopo aver appeso il telefono, Asu viene immediatamente interrotta da Tufan, che, perplesso, le chiede spiegazioni. Asu ammette di essere all'oscuro quanto lui e suggerisce che Emir potrebbe essere in procinto di orchestrare qualcosa contro Kemal. Prima che possa uscire dalla stanza, Tufan la ferma con un avvertimento urgente, la invita a pensare bene prima di agire. Asu, visibilmente irritata, ribatte di essere capace di gestire i suoi affari da sola, come ha sempre fatto. Tuttavia, Tufan insiste, avvertendola che Emir sta riprendendo le sue mosse calcolatrici e manipolative e che entrare nuovamente in quel circolo vizioso potrebbe avere conseguenze disastrose. Asu interviene, sottolineando che il suo cuore è diviso ma è schierata solo dalla parte di Kemal. Tufan, scuotendo la testa, esprime il suo scetticismo. Vedremo cosa succederà, lasciando presagire che la situazione potrebbe precipitare. La giornata si rivela disastrosa per Zeynep, la quale scopre amaramente di essere stata licenziata a causa delle sue bugie. Aveva comunicato alla sua datrice di lavoro di aver partecipato a un funerale, ma la verità emerge crudelmente quando si scopre che tutti i membri della sua famiglia sono vivi. Disperata, tenta di formulare altre scuse, ma la sua padrona, irremovibile, chiude la porta dietro di sé senza ascoltare. In preda all'agitazione, Zeynep chiama Emir, ma raggiunge solo la sua segreteria telefonica. Lascia un messaggio carico di rancore. Grazie a te ho perso il lavoro. Non c'è risarcimento per il danno che mi hai causato. Devi trovami un altro lavoro, altrimenti dirò a Nian quanto siamo vicini e che mi hai perfino affidato la sua bambina. Mentre esce dalla villa, Hakan inizia a seguirla. Nel frattempo cambiamo scenario per assistere a un confronto tra Nian e Emir nel loro nuovo salotto. Nian rilancia dicendo che devono far trasferire Vildan lì, ma con l'accortezza di mantenere le apparenze con stanze separate per non dare adito a dubbi. Le stanze comunicanti con una porta risolveranno il problema, suggerisce Emir provocatoriamente. Nian però insiste sulla necessità di non suscitare sospetti sul loro matrimonio e aggiunge fermamente che non vuole che Emir si avvicini a Denise. Emir ribatte che neanche Kemal dovrebbe avvicinarsi alla bambina. Da ora in poi la bambina è solo mia, afferma, rivelando di possedere il documento di identità della piccola, segnalando chiaramente che non ammetterà interferenze da parte di Kemal o di chiunque altro. Kemal, sempre più coinvolto nel settore minerario, si trova in una riunione di lavoro con alcuni uomini d'affari. Con abilità e persuasione riesce a siglare un accordo che assicura una collaborazione proficua per i suoi progetti. La tensione si alleggerisce quando gli uomini inizialmente scettici alla fine annuiscono, convinti dalle argomentazioni incisive di Kemal. Nel frattempo, Emir presiede alla presentazione del nuovo staff di maggiordomie domestiche. Tra le figure già conosciute, spicca la presenza di Efsanne. Nihan, con un saluto formale ma tagliente, accoglie Efsanne, che risponde con cortesia, chiedendo a Nihan come stia. La risposta di Nihan è misurata. Farò del mio meglio, anche se preferirei che tu non faccia finta di essere dispiaciuta per me. Chiedo a tutti di lasciarci alle spalle i momenti difficili. La situazione si complica con l'arrivo di una nuova figura nel team, la cugina di Efsanne. Nihan, inserendosi nel dialogo, stabilisce fermamente che nel loro nuovo ambiente lavorativo non si dovrà parlare del passato né delle sfide che hanno affrontato. Esplicita il desiderio di mantenere la pace, soprattutto per non irritare sua madre, e tutti sembrano accettare questa condizione, seppur con qualche esitazione. Una volta che Nihan è andata via, una delle ragazze nuove commenta a bassa voce che Nihan appare distaccata e fredda, suggerendo che forse al fianco di Demir sarebbe stata meglio un'altra figura. Efsanne, però, pronta a difendere l'ordine stabilito, la zittisce rapidamente. Emir, prima di lasciare la scena, si avvicina a Nihan per un ultimo annuncio. Quella sera Qi sarà una celebrazione in suo onore, e le promette che non solo si sentirà bene, ma che Qi saranno anche doppie sorprese per lei. Emir afferra il telefono con decisione e ordina alla sua segretaria di far entrare Asu nel suo ufficio. Nel frattempo, in un'altra parte della città, Kemal si trova in una discussione tesa con Zehir riguardo ai progressi dei suoi progetti. Zehir, con un tono di dubbio, ammette che la situazione non è delle più facili. Kemal, con uno sguardo penetrante che riflette la sua frustrazione, lo incalza per capire la causa della sua sfiducia. Zehir rivela che una figura chiave nella collaborazione con Emir è Zera, una persona ben conosciuta da lui e consapevole dell'animosità tra Kemal ed Emir. Zehir, con un tono enigmatico, ricorda a Kemal un vecchio dialogo. Ricordi quando mi chiedesti perché il mio nome significa veleno? E io ti risposi che sono veleno per i miei cari. Bene, la persona che ho avvelenato era proprio Zera. Poi aggiunge che Zera ha sostituito il loro avvocato e ciò complica ulteriormente il quadro. Intanto Zera è immersa nella raccolta di informazioni su Kemal determinata a trovare qualcosa di compromettente nella sua storia. Nel tentativo di prendere l'iniziativa Kemal incarica Zehir di contattare Zera per un incontro ma Zehir con una nota di scetticismo suggerisce che Zera potrebbe rifiutarsi di incontrarlo. Ma Kemal ribatte le offrirò di lavorare con noi e lei sicuramente accetterà afferma con fiducia. La scena si apre con Nyan avvolta in un velo di tristezza profonda mentre visita le tombe di Onder e Ozan. In una sequenza emozionante Nyan ripercorre i ricordi felici trascorsi insieme a loro ma la sua espressione si fa più grave mentre riflette sulle tragiche conseguenze delle sue scelte. Con voce spezzata confessa a se stessa e alle anime perdute che la colpa di quanto accaduto ricade su di lei. Se non avessi riportato Kemal nella mia vita niente di tutto questo sarebbe successo ammette tormentata dal rimorso. Nyan giura di proteggere ciò che resta della sua famiglia anche dal suo amore per Kemal e di liberarsi definitivamente dell'influenza di Emir. Neanche la polizia mi ha aiutata ogni porta a cui ho bussato mi è stata sbattuta in faccia ma io abbatterò l'intero potere di Emir promette con una risolutezza che lascia presagire future battaglie. Nel frattempo la scena si sposta su Kemal che guidando in modo riflessivo decide di fare una sosta al cimitero. mentre esce dalla macchina nota una figura in una macchina la domestica con Danny. Continuando il suo cammino Kemal si dirige verso la tomba di Ozan. È un momento di solennità e riflessione personale ma appena si volta si trova faccia a faccia con Nyan. Il cimitero diventa il teatro di uno scontro emotivo tra Nyan e Kemal. Nyan scossa dalla presenza di Kemal lo affronta con rabbia. Sei venuto qui per colmare la tua coscienza tu che sei la ragione della loro morte? Accusa intimandogli di andarsene. Kemal però rimane fermo rispondendo con calma che se c'è una coscienza da calmare non è la sua. Nyan esasperata e non volendo ulteriori intrusioni nella sua vita lo respinge dicendo non voglio davvero che tu mi attraversi di nuovo la strada. Intanto altrove Zera ottiene informazioni cruciali che potrebbero cambiare le dinamiche di potere. Scopre un'offerta fatta da Kemal per una miniera di carbone. Questo dettaglio suggerisce che Kemal ha delle mosse strategiche in corso che potrebbero avere ampie ripercussioni. La scena si sposta poi sulla nuova domestica che esprime il suo malcontento a Nyan per non aver potuto scegliere i corsi universitari quella mattina dovendo invece accompagnare Nyan e la piccola Denise. La domestica lamenta la difficoltà di conciliare il lavoro part-time con gli studi. Nyan con poca pazienza per le lamentele la zittisce bruscamente sottolineando che se vuole rimanere nella sua casa deve adattarsi alle sue esigenze. Infine il viaggio termina a casa di Leila dove in un momento di tenerezza Leila può finalmente prendere in braccio la dolce Denise. Nyan entrando in casa chiama sua madre Vildan. La scena mostra un delicato confronto di affetti tra Vildan e Leila che si contendono l'affetto per la piccola Denise. Nyan interviene promettendo a Vildan che presto avrà tutto il tempo per coccolare Denise perché ha intenzione di portarla a casa con sé. Vildan con uno sguardo che si posa su Leila risponde che ormai considera la casa di Leila come la sua. Un abbraccio amorevole sigilla questa nuova intesa tra le due donne. Intanto Zehir tenta di contattare Zera per un incontro urgente. Nonostante l'insistenza di Zehir che afferma di agire per conto di Kemal e di avere un'offerta di lavoro per lei Zehir rifiuta decisamente l'incontro. Con fermezza dichiara di essere già impegnata a lavorare per Emir e chiude la conversazione in modo brusco. Parallelamente Kemal si trova a casa dei suoi genitori e approfitta del momento per chiamare Azu. Con tono pentito si scusa per gli eventi recenti chiedendole come stia e ringraziandola per la sua comprensione. Tuttavia Azu chiudendo il capitolo con decisione gli comunica che non c'è più nulla di cui preoccuparsi e chiude la conversazione. Durante la chiamata Galip entra improvvisamente cogliendo Azu in uno stato di turbamento. Azu informa Kemal che la sua presenza in azienda è solo temporanea e che ha alcuni impegni da svolgere prima di uscire definitivamente da lì chiudendo così la chiamata in modo precipitoso. Galip affronta Azu con una gravità che suggerisce una profonda conoscenza dei suoi segreti più intimi. Con un tono carico di disapprovazione ma anche di preoccupazione Galip esprime il suo sgomento per la relazione di Azu con un uomo dal passato oscuro come Kemal. Una ragazza proveniente da una famiglia rispettabile come la tua inizia Galip non avrebbe mai dovuto trovarsi insieme ad un assassino. Mentre la conversazione si fa più intensa Galip lascia cadere un'allusione sibillina che lascia trasparire una conoscenza più profonda dell'identità di Azu quasi come come se stesse alludendo al fatto che lui potrebbe essere suo padre. Se io fossi stato tuo padre avrei preso delle decisioni diverse aggiunge con un tono che oscilla tra il rimorso e l'accusa insinuando di sapere più di quanto Azu possa immaginare. Dopo aver lasciato l'ufficio Galip in un gesto di cortesia chiede ad Azu se la conversazione l'abbia messa a disagio. Lei mantenendo una facciata di compostezza nega qualsiasi disagio nonostante le parole di Galip l'abbiano chiaramente scossa. Un flashback improvviso Chi riporta a un anno prima svelando un dettaglio cruciale Galip è a conoscenza del fatto che Azu è davvero sua figlia. La scena suggerisce che potrebbe averle fatto fare un test del DNA confermando i suoi sospetti e forse spiegando la sua insistenza e il suo interesse per la vita di Azu. Terminano qui le anticipazioni di Endless Love. Io sono Isabella e come sempre vi ringrazio per aver visto il video. Vi stanno piacendo queste nuove puntate della seconda stagione di Endless Love? Fatemi sapere nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel like al video.